Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di aprile 2022. Come dico sempre, sono letture fatte per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami. Cancro. Grazie. Abbiamo l'imperatore. Cari amici del cancro, si parla di quello che è una sorta di stabilità, si parla di un periodo probabilmente di concretezza o del raggiungimento di un qualche tipo di obiettivo. Mi parlano di casa, quindi per qualcuno fa riferimento al comprare o all'affettare una casa. l'imperatore è una carta fondamentalmente di potere, quindi è come se ci fosse un periodo di forte affagamento. È una carta che esprime una persona che si è fatta da sé. Quindi in questo caso, visto che è, diciamo così, una lettura romantica di tipo affettivo, potrebbe fare riferimento al fatto che siate in una relazione molto stabile, che si è costruita nel tempo. Ma andiamo a vedere... sinfonia incompiuta, carta numero 10, e il pensatore, carta numero 44. Allora, se l'imperatore mi parla di stabilità, questa carta mi parla di un qualche cosa che è stato iniziato ma non è ancora terminato. E probabilmente abbiamo la carta numero 44, qui quella del pensatore, perché qualcuno sta, diciamo così, pensando a come poter, se vogliamo, concludere questa sinfonia incompiuta. Hmm, interessanti queste carte. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Andiamo un po' a vedere. Wow! Partiamo con una ruota della fortuna. Wow! Imperatrice, il mondo! Amici del cancro, è un bellissimo periodo, devo dire. Ruota è un periodo proprio, guardate, non potevano uscirvi tre carte migliori, e giustamente capisco la carta dell'imperatore, qui. Allora, la ruota della fortuna mi parla di qualche tipo di cambio molto veloce dal quale state arrivando, o che sta per succedere, insomma, che è lì, per succedere, ok? La ruota della fortuna, normalmente sono cambi veloci, ma sono cambi comunque positivi. Potrebbe anche far riferimento a un'eredità, a un qualche tipo di dono che avete ricevuto, o a un qualche tipo di aiuto fortunato, o magari potrebbe parlare anche di quello che è un incontro per destino. Qui avete l'imperatore e qui avete l'imperatrice. Siete in una fase piena, io vi sento in una fase veramente di abbondanza, di espansione. Per qualcuno, avendo l'imperatrice, potrebbe fare riferimento a una gravidanza, ok? Ma sento che più in generale fa riferimento proprio a quello che è una fase evolutiva, se vogliamo, una fase di crescita. E poi qui abbiamo anche la carta del mondo. Il mondo è di nuovo anche qui un cambio molto veloce, come la carta della ruota della fortuna. Anche lui parla di bambini molte volte, quindi probabilmente per un gruppo di voi, diciamo così, che avete voglia di iniziare magari a cercare questo bambino. No, ecco. Per altri potrebbe semplicemente fare riferimento al fatto che c'è voglia di trasferirsi, mi dicono. Magari di cambiare casa, magari di cambiare città, ok? Abbiamo poi un asso di bastoni e l'asso di bastoni sento che in questo caso fa riferimento al fatto che non si stia facendo o non c'è magari una possibilità concreta di muoversi, anche se io sento che vi siete già amusi, siete già in questa fase dove, insomma, le cose stanno andando bene, ok? Cioè, è una bellissima carta, però è come se mancasse un incontro, è come se mancasse un qualche tipo di movimento. Andiamo avanti con il 6 di pentacoli e il 6 di pentacoli parla di quello che è un equilibrio, ok? Parla di quello che è un dare e un ricevere. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. La morte, avete un sacco di arcani maggiori, ancora una carta per piacere, grazie. E abbiamo un 6 di coppe al contrario. Io credo che questo 6 di pentacoli faccia riferimento al fatto che voi vogliate ricevere tanto quanto state dando, tanto quanto avete dato, insomma. Ma abbiamo la carta della morte, la carta della morte mi parla di quello che è un compime, avete un sacco di carte di cambio, avete la rotta della fortuna che è un 10 che parla di cambi, il mondo 21, parla di cambi, l'asso di bastoni è comunque un asso, anche lui potenzialmente potrebbe parlare di cambi, e avete anche la carta della morte. Quindi qui c'è un qualche cosa che è in via di trasformazione, probabilmente questa sinfonia incompiuta è tale perché non era ancora arrivato il momento di portare avanti questa situazione o questa relazione, ok? Ma sento che qui un cambio ci sarà, quindi arriva un buon periodo, voglio dire, e per qualcuno potrebbe fare riferimento al fatto che ci sia un viaggio di mezzo, che ci sia quello che è una sorta di spostamento, di movimento, ok? Potrebbe essere un viaggio di lunga distanza, comunque. E poi terminiamo con un 6 di coppe al contrario, e qui ho come l'impressione che nonostante i tagli che siano stati fatti, questa sorta di equilibrio ancora non c'è, ed è un po' per quello che qui c'è la carta del pensatore, perché è come se ancora non siete soddisfatti, state ancora pensando, mi dicono se ne vale la pena o no. Ok, andiamo a vedere la ruota della fortuna, per piacere, grazie, abbiamo un 9 di coppe al contrario, e la carta dell'eremita. Sì, perché probabilmente questa ruota della fortuna porta a quello che è un cambio in una situazione che non vi appagava, in una situazione dove magari non vi sentivate proprio pieni, dove non vi sentivate proprio realizzati, e l'eremita comunque è una carta che parla di fare una sorta di ricerca spirituale, è una carta di ritiro spirituale, è una carta di meditazione comunque, e fa riferimento a quella persona che, diciamo così, va in cerca della propria fortuna, va in cerca della propria verità, ok, ma da solo, nel senso che non si appoggia a nessuno, è in grado di sostenersi con le sue gambe. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo la torre al contrario e un matto al contrario, wow! Qui si parla di una presa di potere personale, ed ecco perché c'è l'imperatore che parla di stabilità. Abbiamo la torre al contrario, quindi io credo che ci sia la necessità di cambiare qualcosa, come dice anche il mondo, ma siete consapevoli che dovete cambiare qualcosa. È come se fosse arrivato, per certi versi, già un cambio o un dono o un qualche tipo di avvenimento che vi ha fatto rendere conto che forse non siete poi così, diciamo così, appagati come pensavate di essere. Quindi adesso siete in questa fase di espansione, in questa fase di cambiamento, di riequilibrio, se vogliamo, delle vostre energie, ed è quello che mi dice un po' sei di pentacoli. E qui c'è una… qualcuno sento che non si fida delle proprie capacità, non si fida del proprio potere materiale, mi verrebbe da dire. Materiale non in senso economico, materiale nel senso di poter concretizzare, di potersi espandere. Non si ha fiducia in quello che è il proprio potere creativo. Andiamo a vedere il mondo per piacere, grazie. Abbiamo un fante di bastoni per il mondo, abbiamo la carta del sole e la regina di coppe. Sì, è forte qui il desiderio di bimbi, perché abbiamo diversi riferimenti ai bambini. Fatemi vedere questo asso di bastoni per piacere. Otto di spade e tre di spade. Allora, l'otto di spade parla di sensi di colpa, pensieri tossici, autoboycottanti, ma è vicino a un tre di spade, a quello che è un dolore, una sofferenza. Ed è tutto per spiegare questo asso di bastoni. Allora, per qualcuno potrebbe risuonare come il sentirsi in colpa per essere stati, per aver tradito, scusate, per aver tradito qualcuno. Ce l'ho forte questa cosa. Per qualcun altro potrebbe essere un senso di colpa, perché il tradimento, sì, è vero, si può fare nei confronti degli altri, ma si può fare anche nei confronti di se stessi. Quindi quello che sento è che qui è come se ci fosse una sorta di senso di colpa, se vogliamo, per essersi anche un po' traditi, per non aver fatto, o per aver fatto, quel tipo di azione. Andiamo avanti, vediamo il sei di pentacoli. Otto di coppia al contrario, che è un po' la stessa energia delle remita. fante di coppa al contrario e la carta del giudizio al contrario. Io credo che voi davvero vi stiate aspettando questa sorta di aiuto, mi verrebbe da dire. E qui dovete imparare a cavarvela da soli. L'eremita è una di quelle persone, è una di quelle energie che dice ok, dovete andare per la vostra strada, ma senza appoggervi agli altri. Perché? Perché avete comunque la saggezza, ok, per saper scegliere. Avete la maturità per sapere che cosa è giusto per voi. Avete la consapevolezza di capire, di... come vi posso dire, avete la... avete il dono di riuscire a fare tutto da soli. Però io in questa zona della lettura sento che per molte persone si sta cercando, si sta aspettando, scusate, quello che è un input dall'esterno. Ed è per quello probabilmente che c'è anche la carta della sinfonia incompiuta, perché è come se questo continuo aspettare non vi facesse mai arrivare alla piena espansione, se vogliamo. Per qualcuno questa carta del giudizio contrario con il fante di coppe, al contrario, fa riferimento al fatto che si sta aspettando un ritorno da parte di qualcuno. Guardate che cosa mi è caduto, un altro osso di bastoni. Vabbè, lo metto qui perché stavo parlando di questo. Ok, andiamo a vedere la morte, dieci di bastoni, quindi chiusura di un ciclo e l'imperatore un'altra volta. I dieci di bastoni parla di una responsabilità, di più responsabilità di quelli che sono le aspettative degli altri, di quelli che sono i pesi che si portano sulle spalle e della necessità di lasciare andare indietro queste cose, no? Non servono più, bisogna tagliarle ed è per quello che c'è la morte. C'è qualche cosa da trasformare e probabilmente riguarda proprio quello che è la vostra stabilità o il vostro modo di percepire la stabilità. Perché io comunque vi dirò non vi sento male nel senso siete in una fase di esplosione mi verrebbe da dire qui. C'è un attimo questa zona della lettura che crea questo dolore del tradispade, c'è un qualche tipo di azione che è stata compiuta, che crea senso di colpa, che crea una sensazione di tradimento, di dolore comunque e quindi probabilmente per quello che in questa fase della lettura ci si aspetta uno scambio magari di un confronto, insomma una comunicazione o magari per qualcuno ci si sta aspettando delle scuse. Comunque cambia alla fine del periodo cambia quello che è la percezione se vogliamo. Con questa morte c'è una sorta di trasformazione. Andiamo a vedere il 6 di coppa per piacere, grazie. Ok, abbiamo il papo al contrario il 2 di pentacoli. Allora 2 e 4 di coppe. Allora 2 di pentacoli se fate caso è la carta del giocoliere. Giocoliere gioca fondamentalmente e cerca di tenere in equilibrio questi due dischi. Allora ci sono diverse carte che fanno riferimento a quello che è o potrebbe essere un qualche cosa di carmico, un qualche cosa di ciclico. Perché abbiamo la ruota della fortuna, abbiamo il mondo, se fosse carmico potremmo calcolare anche la torre, e di qua abbiamo il giudizio, il 2 di pentacoli e il 6 di coppa al contrario. Quindi per qualcuno potrebbe essere un qualche tipo di situazione che bisogna risolvere diciamo così a livello carmico, a livello diciamo di anima. però comunque perché c'è ancora questa carta del pensatore? Perché fondamentalmente alla fine del periodo sento che non c'è ancora una presa di coscienza, perché il papa ha comunque girato al contrario, mi parla ancora di quello che non è un'ufficializzazione, c'è la carta del 2 di pentacoli quindi è uno sforzo e un fare fatica a tenere in piedi due questioni e poi comunque abbiamo la carta del 4 di coppe che mi parla di qualcuno che in realtà è un po' come se fosse fermo lì, concentrato su quello che è lì davanti, è un po' come se si, come vi posso dire, la figura sembra che abbia una faccia un po' triste ed è come se io quando vedo questa carta normalmente sento la parola vittima è come se vi lamentaste ci fosse un qualche cosa che vi fa lamentare state cercando comunque di tenere in piedi queste due situazioni ma non siete ancora completamente appagati. Questo taglio, ok, questo probabilmente perché quando comunque ci sono dei tagli, ci sono anche qui avete un sacco di cambiamenti in questo periodo, ci vuole un attimino per diciamo così ritrovare quelli che sono gli equilibri perché entrambe le carte comunque mi parlano di equilibri ma si tratta solo di tempo comunque di pazientare un attimo e diciamo il cavalcare l'onda che ci va anche un pochettino a gioco con questa carta perché se guardate sullo sfondo ci sono le barche con il mare in tempesta bene andiamo a vedere ok grazie pensa con ottimismo alla tua vita amorosa pensare positivo avere fiducia ti porteranno l'amore wow quindi se perché questa carta mi fa pensare a qualcuno che non abbia in realtà ancora diciamo un amore quindi se foste nella situazione di non avere nessuno in questo momento sento che ci saranno una serie di cambi nella vostra vita che vi struttureranno vi faranno vedere quello che è la vostra verità è chiaro voi avete sempre magari il desiderio di un'unione felice di una sorta di famiglia di benessere mi verrebbe da dire emotivo ok ma probabilmente perché per qualcuno io sento che per qualcuno c'è una persona ma le cose non vanno come voi vorreste ecco se proprio non ci fosse nessuno vi dico non vedo grossi diciamo così ingressi nella vostra vita in questo periodo potrebbe esserci qualcuno ma lo vedo un po' immaturo e e anche forse un pochettino egoista però ecco grossi movimenti energetici per i single non non ne vedo se invece fosse in una relazione sento che ci sono stati o ci ci saranno insomma siamo in un periodo di forti cambi di trasformazione per quello che riguarda anche le aspettative concrete se vogliamo anche se comunque c'è ancora un attimino da gestire da imparare a gestire determinate situazioni però questa carta appunto dice pensa con ottimismo la tua vita amorosa ok pensare perché comunque anche qui avete il matto al contrario il matto al contrario parla di sfiducia e questo qua dice pensare positivo avere fiducia ti porteranno all'amore io credo che sia quello un po' assunto e che qualcuno non ha molta fiducia probabilmente nella persona che ha conosciuto ha paura probabilmente di essere tradito di nuovo tradita di nuovo ok e quindi è giusto mettere l'accento su quello che è il dare e il ricevere bene cari amici del cancro questo è quello che avevo per voi spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao